Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il Presidente della Repubblica di Serbia, Tomislav Nikolic. Nel corso dei cordiali colloqui, riferisce la Sala Stampa Vaticana, sono stati rilevati buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica di Serbia e sono stati affrontati temi di comune interesse attinenti alle relazioni tra la comunità ecclesiale e quella civile, con particolare riferimento al dialogo ecumenico e al contributo della Chiesa Cattolica al bene comune della società serba. Ci si è poi soffermati sul cammino della Serbia verso la piena integrazione nell'Unione Europea, nonché su alcune situazioni di carattere regionale e internazionale, tra le quali la condizione dei profughi e dei rifugiati siriani e iracheni e l'importanza di privilegiare una soluzione condivisa alla crisi in corso.